Posizione numero uno Suoi mani vai Signora Adesso il posto di marco Uno, due, tre E uno, tre, due Scusa Uno, due, tre Chama a sutra do Brasil Scusa La voce Camino di qua Siete fantastici Direttamente la tracine La pionda Papio La tracine vieni Pronti Posizione numero Posizione numero dos Descende subindo Movendo a bim Pum 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 Mexendo essa cintura Movendo o quadril Pum 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 Grazie.